Quando ero piccola, tutti mi dicevano che i miei sogni erano bugie, ma io volevo soltanto che si avverassero, desiderare e desiderare e desiderare, fino a farle avverare. Un giorno, grazie a me, il nome dei Deverell risplenderà di gloria in tutto il mondo. Le ambizioni di una giovane scrittrice di talento. Diventerò una famosa scrittrice! Il successo Grazie infinitamente. Non posso stare dalla sua parte come scrittrice, ma l'ammiro come donna. Miss Angel Deverell Mi ricresce dire che non conoscevo le vostre commedie, Miss Deverell. La passione! Qual è la vostra tariffa per un ritratto? Io non dipingo ritratti. Neanche se fosse il mio? E ho capito qual è il vostro segreto. Il mio segreto? C'è qualcosa che manca. Come posso ritrarti se non so che cos'è? Sono certo che abbia avuto a che fare con l'amore. Mio fratello non ha mai amato nessuno al di fuori di se stesso. Esme! Sposami, Esme! Non dovrebbe essere l'uomo a chiederlo. Che importa? Io ti amo! Dal regista di Sotto la sabbia. E otto donne è un mistero. A me non interessa quello che è reale, ma quello che è bello. Sta' attenta, potrebbe farti del male. Hanno dichiarato la guerra! Non hai il diritto di fare così! Non puoi! Andatevene! Angel, il film capolavoro di François Ozon. Dal 5 ottobre al cinema. Dal 5 ottobre. Dal 5 ottobre al cinema. Grazie a tutti